Alla Grecia, Stelios Macaritis. Allora, siamo pronti con la prima coppia? Akita Inu, Wall Speeds, Bassotti Standard, Chihuahua pelo lungo. Allora, siamo pronti con la prima coppia? Allora, siamo pronti con la prima coppia? Allora, abbiamo quattro coppie, abbiamo già visto la coppia degli Akita Inu, dei Wall Speeds, Bassotti Standard a pelo corto e adesso la coppia di Chihuahua. Allora, siamo pronti con la prima coppia? Allora, siamo pronti con la prima coppia? Allora, per quanto riguarda le coppie, al terzo posto abbiamo la coppia di Chihuahua. Al secondo posto la coppia di Bassotti vincono Wall Speeds. Allora, aspettiamo la premiazione di questa coppia, la coppia di Wall Speeds, al secondo posto la coppia di Bassotti e al terzo posto la coppia di Chihuahua a pelo lungo. Ecco la foto di Rito. Il prossimo regruppamento è quello dei gruppi. Ok, il giudice è il giudice Inse dalla Danimarca.